L'Associazione Nazionale Venezia Giulia e Dalmazia si associa alle dichiarazioni di ieri rilasciate dall'Avvocato Paolo Sardos Albertini, Presidente della Lega Nazionale, inerenti l'importanza della visita del Presidente sloveno Pacor al Monumento Nazionale della Foiba di Basovica. È un grande inizio per il nostro futuro, per la ricerca migliore della verità sui crimini della Seconda Guerra Mondiale e successivamente alla Seconda Guerra Mondiale. Lavoreremo assieme alla Lega Nazionale per questo.